I due gemellini, Piso e Pisello, si stavano osservendo del sofisticato sistema di comunicazione satellitare del Nodo per monitorare i messaggi della polizia nel nord-est, ma fino a quel momento non avevano intercettato nulla sul possibile rapimento di una ragazzina. Ottime notizie, ma piuttosto prevedibili. Se Abra disponeva di amici tanto intelligenti da attendere un agguato, probabilmente erano anche abbastanza svegli da capire che cosa sarebbe successo alla loro cocchina se avessero vuotato il sacco. Lo squillo di un telefono, diverso dal solito e attutito. Senza distogliere lo sguardo dalla strada, papà si curvò sui due passeggeri che continuavano a sonnecchiare, aprì il cassetto del cruscotto e trovò un cellulare. Di sicuro apparteneva al nonnetto. Se lo mise... Se lo mise davanti agli occhi. Nessun nominativo. Quindi chiunque chiamasse non era in memoria, ma il numero aveva un prefisso del New Hampshire, uno dei responsabili dell'imboscata, interessato a scoprire se il vecchio e la ragazza erano ancora vivi? Molto probabile. Molto probabile. Dopo averci riflettuto sopra, Corvo decise di non rispondere. Più tardi avrebbe controllato se lo sconosciuto aveva lasciato un messaggio. Com'era il detto? L'informazione e potere. Quando rimise a posto il telefonino, sfiorò qualcosa di metallico. Dopo un attimo... Dopo un attimo sfilò dal cassetto... Dopo un attimo sfilò dal cassetto una pistola semi-automatica. Un bel regalo. E una scoperta fortunata. Se il nonnetto si fosse svegliato in anticipo, forse sarebbe riuscito ad agguantarla prima che papà intuisse le sue intenzioni. L'aereo. A proposito di prima di quando vi ho detto dell'aneddoto del ghigno, ve lo racconto dopo, perché è passato l'aereo intanto. Fece scivolare la Glock sotto il sedile e richiuse lo scomparto del cruscotto. Anche le armi da fuoco erano potere dopo tutto. Era buio pesto, e stavano imboccando la 108 tra le Green Mountains quando Abra iniziò a muoversi. Papà Corvo, ancora vispo e scattante, non se ne rammaricò. La piccola lo incuriosiva. Era prossima... Eh, un cacchio... La pro... Eh, fanculo! La piccola lo incuriosiva, e poi la lancetta del carburante era prossima allo zero. Qualcuno avrebbe dovuto riempire il serbatoio. Meglio non correre rischi, però. Con la destra si sfilò dalla tasca una delle due siringhe che gli restavano, tenendola stretta. Aspettò che gli occhi della ragazzina si aprissero. Erano ancora confusi e frastornati. Buonasera, signorina. Mi chiamo Henry Rotman. Riesci a capirmi? Tu... Tu... Sei... Lei si schierì la voce, bagnandosi le labbra con la lingua e sforzandosi di proseguire. Tu non sei Henry Vatela Pesca, ma il corvo. È troppo adulta questa voce. Tu non sei Henry Vatela Pesca, ma il corvo. Allora ci senti, grandioso. Probabilmente sei un po' intontita, ma ti toccherà sopportarlo perché l'ho deciso io. Però non ci sarà bisogno di spedirti di nuovo nel mondo dei sogni, a patto che tu ti comporti da brava bambina. Intesi? Dove stiamo andando? A Hogwarts per il torneo internazionale di Quidditch. A Hogwarts per il torneo internazionale di Quidditch. Ti offrirò un hot dog incantato e uno stecco di zucchero filato magico. Rispondi alla mia domanda. Ti comporterai da brava bambina? Sì. Il tuo assenso immediato è musica per le mie orecchie, ma perdonami se non mi fido ancora del tutto. Devo fornirti un paio di informazioni vitali prima che tu faccia qualcosa di sconsiderato per poi pentirtene amaramente. Lo vedi quest'ago? Sì. Abra aveva ancora la testa appoggiata al finestrino, ma lanciò un'occhiata alla siringa. Riabbassò le palpebre per poi sollevarle molto lentamente. Ho sete. Colpa del sonnifero senza dubbio. Temo di non avere niente con me. Siamo partiti di fretta e... Forse ho una confezione di succo nello zaino, disse con la voce roca e bassa e spossata. Gli occhi che si riaprivano con estrema fatica dopo ogni battito di ciglia. Gli occhi che si riaprivano con estrema fatica dopo ogni battito di ciglia. Questa è la mia pancia che mi chiede cibo. Dopo, dopo. Stiamo per finire. Ho paura sia rimasto in garage. Potrai bere non appena raggiungeremo la prossima città, se ti comporterai da buon arriccioli d'oro. Se invece sarai cattiva, passerai la notte a deglutire saliva. Chiaro? Sì. Se ti scoprirò a curiosarmi dentro la testa perché so che ne sei capace, o se cercherai di attirare l'attenzione mentre ci fermiamo, pianterò l'ago nel collo di questo simpatico vecchietto. Considerando che si è già beccato una bella dose di narcotico, schiatterà. Stile Emmy Winehouse. Treno. Passato oggi gli aerei, i treni passano velocissimi. Senza fare rumore, tra l'altro. Hai... 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 Hai capi... Hai capito anche questo particolare? Sì. Abby si lecò di nuovo le labbra e poi se le stropicciò con la mano. Non fargli del male. Dipende da te. Dipende da te. Dove mi stai portando? Riccioli d'oro? Amore di papà? Che c'è? Gli chiese, strabuzzando gli occhi con un'espressione confusa. Chiudi il becco e goditi il viaggio. Hogwarts. Zucchero filato. La ragazzina... La ragazzina abbassò le palpebre per non risolevarle più. Più. La ragazzina abbassò le palpebre per non risolevarle più. Iniziò a russare dolcemente. Un soffio leggero. Quasi piacevole. Corvo non pensò fosse una messa in scena, ma giusto per sicurezza continuò a tenere la siringa vicino alla gamba del nonnetto. Come aveva detto una volta Gollum a proposito di Frodo Baggins, lei era infida, tesoro. Molto, molto infida. Abra... Abra non... Abra non si assopì completamente. Sentiva ancora il motore del pick-up, ma in lontananza, sopra di sé. Si ricordò di quando andava con i genitori al lago Winnie-Pizu... Winnie-Pizu-Ki? Si ricordò di quando andava con i genitori al lago Winnie-Pizu-Ki nei torri di pomeriggi d'estate e di come riusciva ad ascoltare il rombo distante dei motoscafi se immergeva la testa sott'acqua. Sapeva di essere stata rapita e che se ne sarebbe dovuta preoccupare, ma si sentiva serena, appagata di galleggiare tra il sonno e la veglia. Però l'arsura in bocca e nella gola era orribile, la lingua le sembrava una spugna rinsecchita. Pensato? Devo inventarmi qualcosa. Mi sta portando dalla donna con il cappello. Devo inventarmi qualcosa, altrimenti mi uccideranno, proprio come il ragazzo del baseball. O magari mi faranno anche di peggio. Ci avrebbe riflettuto sopra... Sopra. Ci avrebbe riflettuto sopra dopo aver bevuto e dopo aver dormito ancora un po'. Il frastuono del pick-up si era trasformato in un ronzio lontano quando una luce improvvisa le penetrò le palpebre. Poi il suono cessò del tutto e il corvo la strattonò per una gamba, prima con garbo, poi con maggiore violenza, abbastanza da farle male. Sveglia, Riccioli d'oro. Dopo potrai continuare a ronfare. Abby si sforzò di aprire gli occhi, sussultando per il bagliore accecante. Erano fermi accanto a un distributore di benzina. In alto brillavano tubi fluorescenti. Si fece scudo con una mano. Alla sete si era giunto il mal di testa. Era come... Che c'è di buffo, Riccioli d'oro? Eh? Stai sorridendo. Ho capito perché mi sento così. Colpa del dopo sbronza. Corvo ci pensò su, lasciandosi sfuggire un ghigno. Sì, in un certo senso. E non ti sei messa neanche a fare cose imbarazzanti, tipo andare a zonzo con un paralume in testa. Sei abbastanza sveglia da sentirmi? Sì. O almeno lo credeva. Oh, la testa le pulsava terribilmente. Prendi questa. L'uomo aveva allungato la sinistra verso di lei, sventolandole qualcosa davanti al volto. Nella destra stringeva ancora la siringa, l'ago vicino alla gamba del signor Freeman. La ragazzina ammiccò. Era una carta di credito. L'afferrò con dita pesanti come macigni. Fece per riabbassare le palpebre, ma l'altro le mollò uno schiaffo in piena faccia. Spalancò di colpo gli occhi, enormi e pieni di stupore. Non era mai stata colpita in vita sua, non da un adulto. E non era mai stata rapita, ovviamente. Ai! Ai! Scendi dal pick-up, segui le istruzioni sulla pompa e riempi il serbatoio. Sei una tipa sveglia e sono certo che ci riuscirai. Poi rimetti a posto l'erogatore e rientra. Se ti comporterai da buonariccioli d'oro, ti porterò al distributore della Coca-Cola laggiù in fondo. Indicò il lato opposto della stazione. Potrai prenderti una bella bibita da mezzo litro. O una bottiglietta d'acqua, se preferisci. O una bottiglietta d'acqua, se preferisci. Secondo me ne hanno una buonissima. Se farai la cattiva, invece, ucciderò il vecchietto, poi entrerò nella stazione e ammazzerò pure il ragazzino la cassa. Semplicissimo! Il tuo amico aveva una pistola di cui mi sono debitamente appropriato. Ti trascinerò con me, in modo che tu veda la testa del cassiere esplodere come un palloncino. Dipende da te. Chiaro? Sì, rispose Abra, un po' meno addormentata. Posso avere una Coca e una bottiglietta d'acqua? Papà Corvo le rivolse un bel sorriso smagliante. Nonostante la brutta situazione, nonostante il mal di testa, nonostante il ceffone, lei lo trovò addirittura affascinante. Probabilmente lo pensavano parecchie altre persone, soprattutto le donne. Sei una piccola ingorda, ma non è necessariamente un male. Dimostrami di aver capito la lezione. La ragazzina armeggiò con la cintura di sicurezza, riuscendo a sganciarla al terzo tentativo, e si aggrappò alla maniglia. Smettila di chiamarmi Riccioli d'oro, disse prima di scendere. Conosci il mio nome, e io il tuo. Sbattè la portiera e puntò al distributore, barcollando appena, prima che papà fosse in grado di aprire bocca. Oltre al vapore, non le mancava la grinta. Quasi l'ammirava, per quanto possibile, considerando che cos'era successo a Serpente, Nocino e Pitagora. All'inizio Abra non riuscì a leggere le istruzioni, per colpa della vista confusa e sdoppiata. Strizzò le palpebre per metterle a fuoco. Il corvo la stava osservando. Si sentiva i suoi occhi puntati sulla nuca come due raggi laser. Pensato? Dan! Nessuna risposta. Ma non era una sorpresa. Come sperava di raggiungerlo, se malapena capiva il funzionamento di quella stupida pompa. Non si era mai sentita meno luccicante di così. Alla fine riuscì a farla partire, anche se la prima volta aveva inserito la carta di credito al rovescio e dovette ricominciare da capo. Il rifornimento durò un'eternità, ma l'erogatore era rivestito da un manicotto di gomma per attenuare il puzzo delle esalazioni e l'aria notturna le stava snebbiando il cervello. In cielo brillavano miliardi di stelle. Di solito restava affascinata dalla loro bellezza e dal loro incredibile numero, ma in quell'occasione la intimorirono. Erano tanto distanti. Non potevano accorgersi di lei. Quando il serbatoio fu pieno si sforzò di leggere il nuovo messaggio sulla finestrella del distributore, voltandosi verso Corvo. Ma non ho capito se il distributore parla sulla finestrella. Dove è il display? Hai bisogno della ricevuta? Ce la caveremo anche senza. Un nuovo sorriso smagliante, quello che ti mandava in estasi se ne eri tu la responsabile. Abra immaginò che quel tipo avesse fidanzate a pacchi. Ah no, forse lo sta chiedendo a Corvo, ok. Hai bisogno... Hai bisogno della ricevuta? Ricevuta? Hai bisogno della ricevuta? Ce la caveremo anche senza. Un nuovo sorriso smagliante, quello che ti mandava in estasi se ne eri tu la responsabile. Abra immaginò che quel tipo avesse fidanzate a pacchi. Pensato? No, soltanto una, la donna con il cappello. Rose. Se ci avesse provato con un'altra, lei lo avrebbe massacrato. Probabilmente con i denti e con gli artigli. Tornò arrancando al camioncino e risalì. Bravissima! Si complimentò lui. Ti sei aggiudicata il primo premio. Ti sei aggiudicata il primo premio. Una coca più una bottiglietta d'acqua. Allora, che cosa si dice al papà? Grazie, rispose la ragazzina di malavoglia. Anche se non sei mio padre. Oh, potrei esserlo. Sono un paparino... Sono un paparino davvero affettuoso con le bimbe che si comportano bene. Basta che abbiano capito la lezione. guidò fino al distributore passandole un pezzo da cinque. Se ce... Se ce l'hanno portami una fanta o altrimenti una coca. Bevete le bibite gassate? Gasate. Bevete le bibite gassate come la gente normale? Lui sembrò ferito nell'orgoglio ma lo sguardo era divertito. Se ci pungete non sanguiniamo? Se ci fate il solletico non ridiamo? Shakespeare, giusto? Si stropicciò di nuovo le labbra. Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. No, in realtà è il mercante di Venezia. Vediamo se lo dice. Il merc... Il mercante di Venezia, testina. Ribatte Corvo ma con un sorriso. Scommetto che non sapresti continuare. Abby scosse la testa. Pessima mossa le... Pessima mossa. Le ritornò l'emicrania che le era quasi passata. Se ci avvelenate non moriamo? L'uomo picchiettò l'ago contro la gamba di Billy. Riflettici sopra mentre vai a prendere da bere. Riflettici sopra mentre vai a prendere da bere. In realtà, se ci avvelenate non moriamo non me lo ricordavo. Io mi ricordavo se ci pungete non sanguiniamo. Ma vabbè. papà Corvo non la perse di vista mentre trafficava con il distributore automatico. L'area di servizio era persa tra i boschi e i margini di qualche città e lei avrebbe potuto sempre decidere di fregarsene del vecchio e precipitarsi tra gli alberi. Gli venne in mente di impugnare la pistola ma preferì lasciarla dove era. rincorrerla non sarebbe stato difficile considerando com'era intontita. Però Abra non spostò neanche lo sguardo limitandosi a infilare la banconota nella feritoia e a ritirare le bottiglie una dopo l'altra fermandosi solo a bere una lunga sorsata d'acqua. E anch'io bevo. Tornò al camioncino aprì la portiera del passeggero ma non entrò indicando il fondo della stazione. Mi scappa la pipì! Corvo rimase interdetto non l'aveva previsto anche se avrebbe dovuto. La mocciosa era stata drogata e aveva bisogno di liberarsi delle tossine. Non riesci a tenerla per un po'? Forse tra un paio di chilometri avrebbe trovato una piazzola per fermarsi lasciandola pisciare dietro a un cespuglio controllando che spuntasse la sommità della testa controllando che spuntasse la sommità della testa e per il resto nessun problema. Ma lei naturalmente scosse il capo. L'uomo ragionò sulla faccenda. D'accordo apri bene le orecchie puoi usare il bagno delle donne se la porta non è chiusa con il lucchetto in caso contrario farai la pipì in caso contrario farai la pipì sul retro non mi passa neanche per la testa di lasciarti entrare a chiedere la chiave al cassiere e se dovrò farla all'aria aperta tu mi spierai maniaco ti accovaccerai dietro un cassonetto mi si spezzerà il cuore se non mi riuscirà di sbirciare le tue sante chiappette ma cercherò di sopravvivere e adesso entra nel pick up ma hai detto entra o ricomincerò a chiamarti riccioli d'oro non appena si decise corvo parcheggiò davanti alle porte dei bagni senza bloccarle ora dammi la mano perché fallo e basta con estrema riluttanza Abra obbedì e lui gliel'afferrò quando vide l'ago cercò di liberarsi non avere paura una goccia soltanto non vogliamo che ti vengano brutti pensieri in mente o che provi a trasmetterli in giro tanto ti tocca anche se fai una scenata lei smise di divincolarsi era più semplice non opporre resistenza sentì una lieve puntura sul dorso della mano e poi l'uomo la lasciò andare scendi e sbrigati e come dice quel vecchio pezzo country il viaggio è ancora lungo e ci resta poco tempo non conosco nessuna canzone del genere sai che scoperta non sei neanche capace di distinguere il mercante di Venezia da non sei neanche capace di distinguere il mercante di Venezia da Romeo e Giulietta sei cattivo non costringermi a esserlo sul serio la ragazzina si trascinò giù restando per un attimo vicino al pick up respirando a pieni polmoni Abra lei lo fissò non cercare di chiuderti dentro sai chi ci andrebbe di mezzo vero? le chiese colpendo delicatamente la gamba di Billy Freeman sì lo sapeva le si stava di nuovo annebbiando la mente che aveva appena iniziato a schiarirsi dietro quel sorriso accattivante si nascondeva una persona orribile dietro quel sorriso accattivante si nascondeva una persona orribile una cosa orribile e furba al corvo non sfuggiva niente girò la maniglia e il bagno si aprì almeno non sarebbe stata costretta a pisciare in mezzo all'erbacce era già qualcosa entrò chiuse la porta e fece quello che doveva fare poi si accasciò sulla tazza abbassando la testa che non voleva smettere di girare immaginò di trovarsi nel bagno di Emma quando aveva stupidamente creduto che sarebbe andato tutto per il verso giusto sembravano passati secoli pensato devo inventarmi qualcosa peccato che fosse drogata e si reggesse a stento sulle gambe pensato Dan si concentrò dando fondo alle proprie energie che non erano poi molte quanti minuti le avrebbe concesso ancora il corvo l'angoscia l'attanagliò minando quel bricero di forza di volontà che le restava non desiderava altro che abbottonarsi i calzoni risalire sul camioncino e tornare a dormire però ci riprovò pensato Dan Dan ti prego per tutta risposta un rapido colpo di clacson il messaggio del corvo era chiaro tempo scaduto e qui finisce il capitolo 14 siamo stati abbastanza fortunati non ci sono stati cani quasi niente di solito ci a volte passano davvero minuti interminabili in cui io sono così e aspetto 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 che finiscono di abbagliare ma oggi sono stato fortunatissimo gli aerei ci sono stati ma non sono passati qua sopra sicuramente stavano andando verso l'Africa o verso la Spagna non lo so quindi spero che vi siate divertiti ah la curiosità che dovevo dire perché ci sono dei termini che che a quanto pare in diverse zone d'Italia hanno altri significati così come vi ho raccontato del ghigno c'era un'altra cosa che mi fa sorridere è che quando il bambino diceva chicca che poi è una parola italiana che vuole dire una chicca abbiamo una chicca per voi qualcosa di speciale bene nella mia zona la chicca è il il membro maschile la chiamiamo anche così nel nostro slang dialettale quindi un po' mi faceva sorridere perché sostanzialmente sono un adolescente mi fanno ridere queste cazzate ciao a tutti grazie per avermi seguito buonanotte buongiorno ciao scrivetemi se vi ho fatto ridere se vi è interessato se vi è incuriosito se ne volete un altro se volete mandarmi a fanc***o